Gela la terra brucia, appello all'Ars, emergenza, i campi continuano a bruciare dappertutto tra Gela e Butera, ieri altri nuovi incendi, preoccupati gli imprenditori agricoli per i raccolti di grano che rischiano di andare in fumo il parlamentare regionale Dem Giuseppe Arancio ha lanciato un appello nel corso di un intervento all'Ars invocando ristori per gli imprenditori, interventi urgenti al presidente della regione a Manfria intanto con le erbacce brucia anche l'amianto a Timpazzo i rifiuti dei comuni ragusani, quello di domenica scorsa è per ora un conferimento solo straordinario 200 tonnellate di rifiuti indifferenziati sono state trasportate a Timpazzo arrivano da 12 comuni della provincia di Ragusa che in questo periodo devono far fronte allo stop dell'impianto TMB di Cava dei Modicani alla regione prosegue comunque l'iter del progetto per l'aumento dei quantitativi di rifiuti conferibili a Timpazzo e ci sono già stati i primi allarmi lanciati dalla politica PAL in arrivo 2 milioni dal fondo di povertà per le fasce più deboli ammontano poco più di 2 milioni di euro le somme che arriveranno a Gela dal fondo di povertà stanziato dal governo nazionale i fondi relativi ai piani di attuazione locali cosiddetti PAL fanno riferimento alle quote annuali del 2018 e del 2019 destinata all'inserimento e all'inclusione dei destinatari del reddito di cittadinanza queste somme si investirà su una serie di priorità che rafforzeranno il settore servizi sociali grazie anche all'innesto di professionalità esterna attraverso la selezione per evidenza pubblica l'obiettivo è quello di potenziare gli strumenti di sostegno per le fasce più deboli autoerotismo davanti ad una minore accuse a un gelese un autotrasportatore gelese dovrà sostenere il processo davanti ai giudici del tribunale di Caltagirone è accusato di violenze su una minorenne che sarebbe stata costretta ad assistere ad atti espliciti di autoerotismo per l'uomo è stato disposto il giudizio ai familiari della ragazza hanno già preannunciato l'intenzione di costituirsi parte civile 75esimo anniversario dell'eccidio di Feudonobile consegnate borse di studio in occasione del 75esimo anniversario dell'eccidio di Feudonobile l'associazione nazionale carabinieri della sezione di gel ha consegnato nove borse di studio agli studenti più meritevoli che hanno partecipato al concorso organizzato in collaborazione con l'istituto Albani Rocella diretto dalla dirigente Rosalba Marchisciana a conclusione del ciclo e delle commemorazioni che hanno visto gli alunni di diversi istituti scolastici rendere omaggio alle vittime delle stragi Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale come abbiamo sentito dai titoli a Gela Emergenza a Roghi infatti i campi continuano a bruciare dappertutto tra Gela e Butera ieri altri nuovi incendi preoccupati gli imprenditori agricoli che per i raccolti di grano che rischiano di andare in fumo il parlamentare regionale Edem Giuseppe Arancio ha lanciato un appello nel corso di un intervento all'Arsi invocando ristori per gli imprenditori e interventi urgenti al presidente della regione a Manfri intanto con le erbacce brucia anche l'amianto sentiamo i campi continuano a bruciare senza sosta Roghi ovunque tra Gela e Butera dove nella giornata di ieri sono scoppiati nuovi incendi con i vigili del fuoco che a fatica riescono a coprire le varie emergenze ieri un rogo di grandissime entità ha mandato in fumo ettari di vegetazione alle pendici della collina di Butera sul posto è intervenuto anche un elicottero antincendio che ha tentato di tranciare la linea di fuoco evitando danni maggiori ma il dramma dei Roghi non riguarda solo i campi incolti a preoccupare i tanti imprenditori agricoli del territorio anche i campi di frumento, grano e orzo che ci sono nella piana di Gela ieri l'ennesimo rogo ha danneggiato un raccolto in contrada Marabusca mentre appena 48 ore fa un altro vasto incendio aveva messo a rischio alcuni campi incontrati a passo di piazza il parlamentare regionale DEM Giuseppe Arancio ha lanciato un appello nel corso di un intervento all'Ars invocando ristori per gli imprenditori e interventi urgenti al presidente della regione nel territorio di Gela in cui insiste la piana di Gela in questo periodo c'è il raccolto del grano se gli agricoltori riusciranno a poterlo raccogliere perché in questo momento c'è un fenomeno gravissimo in cui si sta dando fuoco a tutta la piana di Gela quindi c'è la difficoltà e qui chiedo un aiuto di come l'assessorato al territorio e all'ambiente possa mettere a disposizione o quello che può mettere a disposizione per reprimere questo fenomeno perché è un fenomeno non grave ma gravissimo perché ci sono gli agricoltori che dopo un anno cercano di avere i proventi dal loro raccolto e in un attimo va in fumo perché stanno dando fuoco a così tanti campi di grano che anche i vigili del fuoco non riescono a spegnere un incendio e non hanno la possibilità di spegnere gli altri è una situazione drammatica e su questo chiedo che ci sia una risposta del governo intanto per vedere come reprimere il fenomeno, primo punto secondo punto è di cercare come dare un ristoro a questi agricoltori perché non è il problema soltanto degli agricoltori perché se non c'è il grano non ci sono i trebbiatori che possono andare a trebbiare e quindi ricevere anche loro un guadagno c'è un meccanismo di filiera che viene meno e anche su questo chiederei che ci possa essere sia dall'assessorato territorio e ambiente sia dall'assessorato agricoltura un focus su questo fenomeno ed eventualmente la prevenzione e il ristoro ma non sono solo le aree rurali e quelle incolte all'interno del perimetro urbano a bruciare roghi già da diversi giorni si registrano anche tra le strade di Manfria e con l'inizio vero e proprio della stagione estiva la situazione potrebbe sfuggire di mano a segnalare la necessità di interventi per ripulire le aree incolte della zona balneare e bonificare le troppe discariche a cielo aperto e il presidente della commissione consigliare sanità e ambiente Rosario Trainito il consigliere segnala anche un evidente rischio per la salute dei cittadini in via dell'arachidi infatti segnala lo stesso Trainito proprio a ridosso della spiaggia a bruciare non è stata soltanto l'erba ma anche diversi serbatoi in amianto i cui fumi sono potenzialmente cancerogeni altamente impattanti per l'ambiente Trainito è intenzionato a chiedere un monitoraggio anche dei terreni privati in stato di abbandono con l'obbligo per i proprietari di ripulirli e bonificarli anche sullo stato delle spiagge si spingerà sui controlli e sui costanti interventi di pulizia e continua ad arretrare il contagio da covid-19 anche a seguito di una percentuale di vaccinazioni in netta progressione Nelle ultime 24 ore sono solo due nuovi casi in isolamento domiciliare sono invece 19 i guariti la curva complessiva dei positivi in città cala 226 un paziente gelese è stato dimesso dall'adegenza ordinaria non si registrano altri ricoveri i nuovi contagiati in provincia sono un paziente di Caltanissetta uno di San Cataldo, uno di Delia i guariti sei di Niscemi, quattro di Serra di Falco, uno di Butera uno di Mussumeli, uno di San Cataldo, uno di Sommatino e uno di Villalba quello di domenica scorsa è per ora un conferimento solo straordinario 200 tonnellate di rifiuti indifferenziati sono state trasportate a Timpazzo arrivano da 12 comuni della provincia di Ragusa che in questo periodo dovevano far fronte allo stop dell'impianto TMB di Cava dei Modicani alla Regione prosegue comunque l'iter dal progetto per l'aumento dei quantitativi di rifiuti conferibili al Timpazzo e ci sono già stati i primi allarmi lanciati dalla politica per ora si è trattato solo di un conferimento straordinario concentrato nella giornata di domenica scorsa 200 tonnellate di rifiuti sono state trasportate a Timpazzo provenienti da 12 comuni della provincia di Ragusa nel territorio ibleo queste sono settimane molto difficili per la gestione dei rifiuti vista la quasi saturazione dell'impianto TMB di Cava dei Modicani così per alleggerire la pressione dei rifiuti indifferenziati è arrivata l'autorizzazione del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti dopo l'assenso dei vertici della Impianti SRR la società che gestisce la piattaforma integrata di Timpazzo un sì quello giunto dagli uffici di Timpazzo però limitato alla sola giornata di domenica scorsa anche per evitare che la vasca del sito e il TMB possano iniziare a risentirne i rifiuti dal territorio di Ragusa sono arrivati in una fase delicata la Regione ha praticamente già sbloccato la procedura per l'approvazione del progetto che dovrebbe aumentare i quantitativi di rifiuti conferibili proprio a Timpazzo un passo mosso a Palermo per tentare di trovare soluzioni alternative alla discarica privata di lentini di proprietà della società Sicula Trasporti il sito dove arrivavano i rifiuti di centinaia di comuni dell'isola si avvia allo stop e Timpazzo è una delle poche piattaforme pubbliche ancora assolutamente efficienti quello di domenica scorsa è stato solo un conferimento una tantum come si legge nelle carte ma potrebbe essere un altro segnale lanciato dalla Regione ha già sollevato non poche polemiche con la netta contrapposizione espressa all'Ars dal Movimento 5 Stelle il deputato regionale Nuccio Di Paola più volte sollevato il pesante dubbio sui piani della Regione che potrebbero trasformare Timpazzo in una nuova Lentini diventando quindi sito di conferimento per centinaia di comuni siciliani a discapito non solo della salubrità del territorio ma anche della possibilità per gli enti della SR4 di contare su una piattaforma pienamente efficiente e disponibile sembra che i sindaci ragusani in attesa del ripristino della TMB di Cava dei Modicani stiano spingendo per conferire a Timpazzo nonostante i primi esiti delle analisi condotte sui rifiuti non abbiano dato esiti convincenti almeno in base agli accertamenti commissionati ad un laboratorio locale La Prefettura ha disposto la chiusura temporanea per due palestre della città per cinque giorni la Polizia aveva sanzionato i due titolari per aver svolto attività sportiva o ricreativa sebbene fosse sospesa dai provvedimenti governativi e regionali per prevenire la pandemia gli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato nei giorni scorsi hanno notificato i provvedimenti prefettizi che dispongono la chiusura temporanea per cinque giorni lavorativi Entrambi gli esercizi commerciali in piena pandemia erano stati oggetto di controlli eseguiti dagli agenti e nella circostanza sanzionati amministrativamente per violazione delle misure di contenimento da Covid-19 per aver svolto attività sportiva o ricreativa sebbene la stessa fosse sospesa dai provvedimenti governativi e regionali emanati per prevenire la pandemia a seguito delle due violazioni il Prefetto ha disposto la misura accessoria Ammontano a poco più di 2 milioni di euro le somme che arriveranno a Gela dal fondo di povertà stanziato dal Governo nazionale i fondi relativi ai piani di attuazione locali cosiddetti PAL fanno riferimento alle quote annuali del 2018-2019 destinata all'inserimento e all'inclusione dei destinatari del reddito di cittadinanza all'interno del distretto sociosanitario di cui la città è capofila con queste somme si investirà in una serie di priorità che rafforzeranno il settore dei servizi sociali grazie anche all'innesto di professionalità esterne attraverso la selezione di evidenza pubblica l'obiettivo è quello di potenziare gli strumenti di sostegno per le fasce più deboli sentiamo in arrivo per Gela oltre 2 milioni previsti dal fondo povertà nazionale per potenziare i servizi destinati agli ultimi i fondi relativi ai piani di attuazione locale i cosiddetti PAL fanno riferimento alle quote annuali del 2018-2019 destinate all'inserimento e all'inclusione dei destinatari del reddito di cittadinanza all'interno del distretto sociosanitario di cui Gela è capofila in città arriveranno così oltre 2 milioni di euro per far fronte all'enorme impatto sociale derivato dalla diffusione della pandemia da Covid-19 a causa della quale si è manifestato un'improvvisa situazione di emergenza sociale che gli enti locali hanno dovuto fronteggiare con tutti gli strumenti nuovi o già esistenti a disposizione proprio in questi mesi i comuni e il distretto di Nove hanno determinato la necessità di rimodulare gli strumenti di programmazione vigenti in particolare il piano di zona al fine di renderli coerenti con la nuova situazione sociale caratterizzata da nuovi bisogni a cui rispondere e servizi programmati non più attuabili nel breve e nel medio periodo adesso si investirà su una serie di priorità che rafforzeranno il settore servizi sociali grazie anche all'innesto di professionalità esterne attraverso la selezione per evidenza pubblica l'obiettivo è quello di potenziare gli strumenti di sostegno per le fasce più deboli in un momento veramente drammatico che sta vivendo anche la nostra comunità questi fondi sicuramente ci consentiranno di poter intervenire attraverso progetti di inclusione sociale partiranno, riusciremo ad avviare i cosiddetti PUC quei progetti destinati ai percettori del reddito di cittadinanza progetti di pubblica utilità ecco, questo sicuramente è una risposta importante che può dare la nostra comunità abbiamo ricevuto circa 2 milioni di euro che verranno spesi appunto in attività, in progetti da destinare a quelle famiglie che stanno vivendo dei momenti drammatici soprattutto in una fase post-Covid attraverso i finanziamenti arrivati si investirà anche nel potenziamento organico del settore servizi sociali che da tempo opera con il personale contato e che adesso potrà usufruire di professionalità esterne che daranno una mano in più nell'attuazione dei piani consegnetimi di dire che stiamo lavorando e abbiamo lavorato in quest'anno pandemico anche vivendo delle forti criticità soprattutto ciò che mi preme sottolineare la carenza di risorse umane nel nostro settore quindi questo appunto intanto consentitemi di ringraziare il personale quelle poche unità lavorative che sono rimaste nel settore che rappresento che con spirito di abnegazione si sono impegnati per portare avanti questi progetti fondamentali proprio fondamentali per quelle fasce deboli quelle famiglie appunto che vivono un disagio economico e sociale a cui queste somme sono destinate ecco queste somme ci consentiranno questo finanziamento ci consentirà di intervenire anche nel settore dei servizi sociali per potenziare il personale il personale che sarà appunto impegnato nei progetti finanziati questo mi consentirà anche di dare delle risposte a tutti quei giovani che vogliono impegnarsi anche lavorativamente in questi progetti Un trentenne gelese è stato arrestato in fragranza di reato per spaccio di stupefacenti nella tarda serata di lunedì un equipaggio del commissariato nel corso di un servizio antidroga in via Trieste ha proceduto al controllo dell'uomo il quale alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi dopo la perquisizione personale i poliziotti gli hanno trovato addosso 16 involucri di marijuana la perquisizione stessa all'abitazione ha consentito ai poliziotti di rinvenire all'interno di uno zaino una busta contenente altra marijuana per un peso complessivo di 390 grammi giovedì scorso i poliziotti e la squadra giudiziaria del commissariato avevano arrestato un trentottenne trovato con 370 grammi di hashish continuiamo con la cronaca autoerotismo davanti ad un minore un autotrasportatore gelese dovrà sostenere il processo davanti ai giudici del tribunale di Caltagirone è accusato di violenza su una minorenne che sarebbe stata costretta ad assistere ad atti espliciti di autoerotismo per l'uomo è stato disposto il giudizio ai familiari della ragazza hanno già preannunciato l'intenzione di costituirsi parte civile sentiamo avrebbe costretto una giovane all'epoca dei fatti ancora neanche di 18 anni ad assistere ad atti di autoerotismo un autotrasportatore gelese ne deve rispondere davanti ai giudici del tribunale di Caltagirone i fatti si verificarono proprio nella zona del Calatino dove l'uomo era di passaggio per lavoro la giovane secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbe stata costretta a guardare l'uomo sarebbe stato proprio lui ad afferrarla con violenza per un braccio fatti che la ragazza raccontò ai familiari che adesso hanno preannunciato attraverso i loro legali l'intenzione di costituirsi parti civili nel giudizio una richiesta avanzata direttamente dai genitori della giovane dopo la denuncia partì un'indagine coordinata dai PM della procura Calatina gli investigatori arrivarono all'autotrasportatore nonostante si trovasse in quella zona solo di passaggio appunto per ragioni lavorative l'autotrasportatore adesso è difeso dall'avvocato Salvo Macri e dovrà rispondere alle accuse nel corso del giudizio il processo entrerà nel vivo il prossimo ottobre probabilmente anche con i primi testimoni da sentire in aula Pietre contro poliziotti che lo avevano fermato la polizia ha arrestato nel capoluogo Oppong Philip Ganes di 34 anni senza fissa dimora per resistenza pubblico ufficiale gli agenti ieri hanno fermato l'uomo in viale Stefano Candura alla richiesta di esibire documenti il 34enne si è scagliato contro di essi tentando di colpirli con due grossi massi raccolti dal bordo della strada i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e condurlo in questura nel corso del controllo ha aggredito i poliziotti che hanno riportato le lieve ferite agli arti 75esimo anniversario dell'eccidio di Feudo Nobile in occasione di questo anniversario l'Associazione Nazionale Carabinieri della Sezione di Gela ha consegnato nove borse di studio agli studenti più meritevoli che hanno partecipato al concorso organizzato in collaborazione con l'Istituto Albani Rocella diretto dalla dirigente Rosalba Marchisciana a conclusione del ciclo delle commemorazioni che hanno visto gli alunni di diversi istituti scolastici rendere omaggio alle vittime delle stragi riflettere sul valore delle istituzioni ed esprimere la propria opinione mediante la stesura di un componimento questi gli obiettivi fondamentali posti alla base del concorso promosso dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri della Sezione di Gela in collaborazione con l'Istituto Albani Rocella diretto dal dirigente scolastico Rosalba Marchisciana giunto alla sua terza edizione il concorso organizzato in occasione del 75esimo anniversario dell'eccidio di Feudo Nobile nel quale otto carabinieri furono trucidati ha coinvolto i ragazzi di diversi istituti scolastici della città tutti gli studenti sono stati stimolati a riflettere sulla figura del carabiniere al fine di potersi esprimere attraverso componimenti testuali in merito al ruolo che il carabiniere riveste all'interno della nostra società al di laddico della borsa di studio che rimane sempre un momento simbolico la bellezza di questo concorso è sicuramente quello di mettere insieme tutti i ragazzi delle scuole di Gela invitarli a riflettere sul valore delle istituzioni e tirar fuori qualcosa che riguarda la loro stessa interiorità e le loro stesse passioni questo è emerso anche questa volta siamo molto contenti della bella partecipazione e della sensibilità mostrata dai ragazzi che hanno ricevuto il premio Alcuni studenti oltre a trattare il tema principale del concorso hanno arricchito i propri componimenti con esperienze personali riuscendo ad emozionare chi ha avuto modo di soffermarsi sulla lettura Uno dei diciamo quelli che più mi ha colpito e che mi ha fatto emozionare è stato quello redatto dall'alunno Amadeu Casano perché oltre a descrivere la sua vicenda familiare che diciamo è venuta qui da noi per trovare quella serenità che non trovava famiglia ha descritto anche l'importanza dei militari dell'arma dei carabinieri grazie alle quali lui è riuscito a venire fuori da questa situazione dopo che la madre l'aveva accoltellata il dottor Infurna è stato molto eloquente nel fare la recensione di questo compito che sono sicuro che diciamo sarà molto importante per noi Questo concorso nelle varie edizioni continua a premiare l'impegno e lo studio e come affermato dal sindaco Lucio Greco rappresenta una valida occasione per stimolare ancora di più i ragazzi Il valore è dedicato agli eroi si vogliono ricordare gli otto carabinieri uccisi nell'eccidio di Feodonobile in memoria di questi otto eroi che nell'adempimento del proprio dovere con coraggio hanno affrontato situazioni che le hanno portati anche a perdere la vita nell'adempimento del proprio dovere a difesa dell'ordine pubblico e della nazione Il ministero approva la bonifica del centro olio Enimed è arrivato il sì agli interventi per il centro di raccolta olio perla prezioso di Enimed in base a quanto deciso in Roma i lavori dovranno iniziare entro i prossimi quattro mesi il progetto del cane a sei zampe venne trasmesso lo scorso anno sentiamo Il progetto operativo di bonifica venne presentato da Eni nell'aprile di un anno fa dal ministero della transizione ecologica negli ultimi giorni è giunto il provvedimento conclusivo che autorizza la bonifica del centro di raccolta olio perla prezioso in base a quanto si legge nelle carte firmate dal direttore generale della direzione risanamento ambientale del ministero Giuseppe Lopresti gli interventi dovranno partire entro i prossimi quattro mesi il sito è il riferimento principale per la raccolta degli idrocarburi estratti dalle piattaforme prezioso e perla appunto sono stati i manager di Enimed la società del cane a sei zampe che si occupa dell'upstream a trasmettere il progetto di bonifica che è stato sottoposto al vaglio non solo dei tecnici del ministero ma anche dei funzionali degli enti preposti ancora di Ispra e Arpa che hanno rilasciato parere nel provvedimento autorizzativo c'è un elenco di prescrizioni da osservare soprattutto per il monitoraggio di sostanze pericolose dal centro olio il petrolio grezzo compiva poi il percorso verso la raffineria di contrada piana del signore oggi riconvertita con un ciclo green per i carburanti sostenibili devono essere monitorati anche i livelli di falda l'eventuale presenza e lo spessore della fase separata inoltre devono essere effettuati campionamenti analisi periodiche delle acque emunte dai singoli pozzi si legge tra le prescrizioni rilasciate dal ministero ora guidato da Roberto Cingolani il via libera al progetto operativo fa sì che aspetti poi ad Enime ad ottenere le autorizzazioni per i lavori da effettuare finalizzati appunto alla bonifica il progetto rientra nei programmi più volte comunicati dall'azienda sarà necessario osservare il cronoprogramma inserito nel progetto complessivo anche se in passato per altri interventi i ritardi si sono accumulati anche a seguito di autorizzazioni rilasciate non entro i tempi previsti questo è un aspetto che spesso tocca i procedimenti di bonifica che sul territorio sono fermi a percentuali basse i vertici della gruppo Eni hanno già ottenuto l'approvazione di diversi progetti per alcuni di questi l'istruttore è stata spesso molto complessa anche la bonifica del centroio per la prezioso rientra nel piano complessivo monitorato dall'amministero è tutto il nostro telegiornale termina qui per tutti gli altri approfondimenti vi ricordiamo di visitare il sito quotidianodigela.it grazie per averci seguito a presto a presto